E' fu? Fatti foto, fatti foto, fatti foto, graffa! Bellezza mia! Fatti foto, fatti foto, fatti foto, graffa! Mamma, tu stavo sotto e tu stavo a mettere mamma? Tu c'hai? Tu c'hai? Tu c'hai? Tu c'hai sempre pagliato! Tu c'hai sempre pagliato! Mi sono permesso di mettere la mia e poi... E' un diamo di cibo! Mamma, bambola! Bambola? Bambola! Bambola! Allo! Tu c'hai sempre pagliato! Tu c'hai sempre pagliato! Allo! Tu c'hai sempre pagliato! Come si chi? Si, ma come si chiama? Salvatore! Salvatore! Tu c'hai sempre pagliato! Salvatore! Tu c'hai sempre pagliato! Salvatore! Octava! Come si chiama a tu! Di e' algumas! Come si chiama! Come si... Come si chiama a tu isn't, come si chiama a tu da la bella? Come si chiama a tu minocer de la bella? Come si chiama a tu? i figli sono seguiti si è giustamente seguiti non c'è 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 è passata buonanotte devo campare 100 anni 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 100 anni